La prefettura convoca i sindaci e i vertici della sanità salernitana per adottare una strategia comune e fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'università ha confermato che le elezioni si terranno regolarmente mentre in provincia diversi sindaci hanno diramato una serie di ordinanze restrittive. A Buccino scuole chiuse fino al primo marzo, una famiglia di quattro persone, un altro cittadino rientrati da Codogno in quarantena per una settimana. Stesso provvedimento anche per un nucleo familiare di Camerota con il sindaco che ha disposto l'isolamento precauzionale per un giovane rientrato proprio dall'ospedale di Codogno e i suoi familiari. La psicosi però non si ferma, ovunque è corsa alle mascherine e ai detergenti per le mani praticamente introvabili. Il prefetto Francesco Russo ha convocato sindaci e dirigenti sanitari ospedalieri per mettere in campo tutte le iniziative necessarie. Intanto il sindaco di Salerno prova a evitare allarmismi e attacca l'opposizione che ha chiesto misure restrittive per chi torna in città dalle regioni del nord. Nel comune di Salerno, almeno dalle notizie che mi sono state riferite dal dottor D'Amato dell'azienda ospedaliere di Salerno, non ci sono casi preoccupanti né riscontri obiettivi. Naturalmente questo non ci esime dall'assumere dei comportamenti di prevenzione rispetto ad eventuali criticità future. Io sono a disposizione di tutti i pratti che siano razionali, istituzionali e completi. Per il resto facciamo chiacchiericcio, non è un consiglio comunale dove ci si esercita talvolta maldestramente. Questa è una cosa seria. Intanto un pullman di turisti salernitani provenienti da Venezia senza alcun segno di contagio è stato posto in quarantena. A bordo 33 persone originarie del capoluogo di altri comuni della provincia. I viaggiatori stanno seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie in attesa dei risultati dei tamponi.